Il viaggio di Voyager ai confini della conoscenza ci porta in Sicilia. Entreremo in un castello che ci nasconde ancora qualcosa. Un tuffo nel suo passato tra storia e leggenda. Perché proprio lungo questo percorso troveremo qualcosa legato alla fede. E poi altri misteri che sfidano la ragione. È comparso qualcosa in un fotogramma che non doveva comparire. Spero siate pronti, il viaggio sta per cominciare. Con Roberto Giacobbo, Voyager, lunedì alle 21.15, Rai 2.